Violenza sulle donne con disabilità, spiegato in lingua facile. Purtroppo in Italia tantissime donne hanno subito della violenza. Subire una violenza significa essere vittime di violenza. Per esempio, un uomo picchia una donna, allora questa donna è vittima di violenza. E l'uomo è il responsabile della violenza. Anche tantissime donne con disabilità sono vittime di violenza. Ci sono tante forme di violenza sulle donne con disabilità. In questo testo, noi dell'osservatorio provinciale vogliamo dare informazioni sulla violenza sulle donne con disabilità. Violenza psicologica Cos'è la violenza psicologica? Le minacce sono una forma di violenza psicologica. Per esempio, qualcuno minaccia di uccidere una donna, di fare male a una donna o di fare male alla famiglia della donna. Violenza psicologica è anche quando qualcuno vuole controllare una donna. Per esempio, quando qualcuno non lascia uscire di casa una donna, controlla il telefono della donna. Anche gli insulti e le offese possono essere una forma di violenza psicologica. Violenza sessuale Cos'è la violenza sessuale? Violenza sessuale, per esempio, quando un uomo costringe una donna a fare sesso. Costringere significa la donna non vuole fare sesso. E l'uomo le fa fare sesso comunque. Anche le molestie sessuali sono una forma di violenza sessuale. Molestie sessuali significa, per esempio, una persona tocca alcune parti del corpo di una donna e questa donna non vuole essere toccata. Violenza fisica Cos'è la violenza fisica? Violenza fisica significa, per esempio, che qualcuno Picchia una donna, dà un calcio alla donna, dà un pugno a una donna, dà uno schiaffo a una donna, accoltella a una donna, spara a una donna. Qualcuno rompe le cose di una donna? Anche questa è violenza fisica. Per esempio, qualcuno rompe cose importanti per la donna, o qualcuno distrugge documenti importanti per la donna. Violenza economica Cos'è la violenza economica? Violenza economica significa, per esempio, qualcuno si prende i soldi delle donne, qualcuno non lascia che le donne usino i loro soldi, Qualcuno non lascia lavorare le donne. Spesso le donne che sono vittime di violenza economica hanno bisogno dei soldi dei responsabili della violenza. E i responsabili della violenza dicono, vuoi avere dei soldi? Allora devi fare quello che dico io, così le donne non possano fare quello che vogliono. Grazie. Svegli da questo. Grazie. Ricchodzi. Grazie a tutti.